L'irruzione nella notte in un casolare nelle campagne di Maida in provincia di Catanzaro. Domenico Cracolici, boss dell'omonimandrina di Maierato e Filogaso, nella lista dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia. I carabinieri lo hanno catturato mentre dormiva in una casa di proprietà di parenti. Era solo, non a opposto resistenza. Durava da 13 mesi la sua latitanza. Da quando, quel 19 dicembre del 2019, Domenico Cracolici sfuggì al maxi blitz dell'inchiesta Rinascita Scott. L'accusa, associazione mafiosa. Quella volta in casa sua a Maierato nel Vibonese, i militari non lo trovarono. Come non lo trovarono i finanzieri nel luglio del 2020, a seguito dell'operazione imponimento per traffico di droga. Ma stavolta il continuo cambio di nascondigli non è bastato. È importante la cattura non solo perché abbiamo sottratto al territorio un pericolosissimo raditante perché durante l'aditanza questa gente non si riesce a controllare, commettono altri reati per vivere e per mantenersi. Ma è importante per dare un messaggio alla gente che può continuare a fidarsi di noi perché noi ci siamo e siamo presenti sul territorio. C'era lui per gli inquirenti alla testa della cosca dei Cracolici, storica avversaria dei Buonavuota di Sant'Onofrio dalla cui espansione nacque una sanguinosa faida negli anni 2000 e alleata invece dei Mancuso, un nuovo tassello nell'inchiesta che ha dato il via al maxiprocesso di Lamezia contro l'Andrangheta nel Vibonese.